Grazie per l'invito e la possibilità di raccontare la nostra cooperativa che fermiamo sia un modello innovativo di agricoltura sociale. Sono Francesca, presidente di questa cooperativa, che è presente sul territorio regionale, quindi regionile, territorio della bassa, da circa 30 anni. Il petronino, diciamo che da circa 30 anni fa inserimento lavorativo, inserimento lavorativo di persone diversamente abili dentro alla nostra azienda produttiva, che come dicevano, produce principalmente basilico. Abbiamo, questo è, diciamo, la mappa del nostro territorio, che è comunque un territorio molto basso, che va, insomma, tutto lungo il film e il film un po', e che però negli ultimi anni, ecco, si cerca di spostare anche sul territorio regionale. E volevo raccontare un attimo brevemente quello che facciamo, quello che crediamo sia innovazione sociale con tre step, come vedete, coltivazione, confezionamento e distribuzione.